Ecco, adesso che siamo quasi alla fine di questo corso promozionale che si è protratto per oltre tre giorni, ci avviciniamo al momento conclusivo attraverso una performance, una prova aperta al pubblico, dirò che l'impressione che ho avuto di tutti quelli che sono venuti a partecipare è stata veramente simbola e mi sembrava di riscontrare un interesse notevole di tutte queste persone che sono venute qui e che nei momenti più significativi dello stage, mi sono sembrati attentissimi e interessatissimi. Non voglio sprecare un tempo prezioso con uno spoccolomore. Non so. Per te no, perché sei cieco negli orecchie, nella mente e negli occhi. E tu, sciamurato, rinforci ad altri quello che presto tutta questa gente rinfacerà a te. Fu lei a consegnare? Sì, mio signore. Che dovrei fare? Uccidere. Lei che la tua aveva partorito, sventurata. No, non erano le vere scemenze. No. E allora che cos'è una vera scemenza? Scusa, per esempio. Sarebbe stata se io ti avessi detto, anni, chiuditi le orecchie. Così quanto sei riesco ad ora. Ah, questa è una vera scemenza? Eh sì, questa sarebbe una vera scemenza. Mamma mia, sono così scema che non sapevo nemmeno che vuol dire essere scemi. Dico solo che ogni momento con te è migliore di quello dopo. Ora stai rifiutando i tuoi sentimenti. Ma no, stai rifiutando. Scusa, dimenticato, non puoi farle almeno. Non ho altro da aggiungere in merito perché questa tensione è documentata, è documentabile. In fondo li guardo, vedo, ecco, la locandina che indica appunto la conclusione, diciamo così, di questo corso promozionale che si esploderà praticamente attraverso un corso a pagamento che è un corso professionale che viene organizzato dall'Associazione Proarchè insieme all'Associazione Crepusco. L'Associazione Proarchè è un'associazione giovane, neonata, che però, come dire, ha lanciato insieme a me questa idea di questa conclusione di questo corso promozionale in un corso poi che si articolerà in dieci, otto, dieci mesi, e speriamo, come dire, che questa cosa abbia un esito positivo. Noi ci crediamo perché ci è sembrato di capire che abbiamo diverse possibilità di adesione. quindi, come dire, vi aspettiamo, anche coloro che non hanno partecipato nulla, la possibilità di partecipare a questo corso, chiunque può partecipare alla selezione, sono aperte a tutti e non solo a quelle che hanno presentato il corso promozionale. Chiunque sia interessato al teatro può venire e partecipare a questa performance che poi prevedrà una selezione. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti.